Riding Club Firenze a Bagnarripoli è un'associazione sportiva dilettantistica che si occupa di promuovere l'equitazione a tutti i livelli. Lo scopo primario è di trasmettere a livello educativo l'amore per i cavalli. Al Riding Club si praticano le tre discipline olimpiche a livello agonistico con un istruttore master, salto-ostacoli, dressage e completo. Ma diamo particolare attenzione anche a chi si avvicina per la prima volta a questo sport e all'attività ludica. Venite a trovarci al Riding Club a Bagnarripoli oppure telefonate al 327 59 40 584.